Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi parleremo di Funko Pop e di GameStop. Perché parleremo di GameStop? Perché mi avete mandato tantissimi messaggi privati proprio per avere maggiori notizie sulle nuove politiche in merito di Funko Pop applicate ultimamente da GameStop. Se ne hai parlato tanto su Facebook, nei gruppi dedicati ai Funko Pop, mi avete mandato diversi messaggi privati, ne ho chiacchierato in privato con alcuni di voi e ragazzi, finalmente ho avuto il tempo di girare un video e di fare chiarezza. Ma cominciamo dal principio. Un paio di settimane fa GameStop ha lanciato una nuova iniziativa su tutti i suoi social che è stata accolta da alcuni con ilarità e da altri invece con interesse. Secondo me non è tanto male come iniziativa e soprattutto però la cosa che mi preme, la cosa strana, è che oggi cercando notizie più approfondite in merito per darvi appunto più dettagli possibili sembra assolutamente sparita da ogni profilo social di GameStop. Quindi io adesso vi dirò cosa era stato detto ma non ho la certezza assoluta che questo sia già applicato all'interno del GameStop. In poche parole, da oggi, mettiamola così, si potrà portare i propri Funko Pop usati da GameStop e si potrà ricevere in cambio un buono spesa da utilizzare sempre all'interno del GameStop. Per quanto riguarda i Funko Pop regular, quindi come questo qui nella confezione piccola, verranno corrisposti 4€ per ogni Funko Pop. La cosa interessante è che, a quanto pare, GameStop non terrà conto delle condizioni della scatola. Questo, come sappiamo, è importantissimo per chi colleziona ed è spesso un problema rivendere Funko Pop con la scatola ammaccata, quindi potrebbe comunque essere un modo per tirarci su qualche euro. A me stesso è capitato di vendere lotti di Funko Pop anche a meno di 4€ l'uno, quindi avere questa opzione è comunque qualcosa di positivo. E addirittura i Funko Pop Oversize, quindi tipo questo che non venderò mai, o tipo questo qui di Aladin, invece viene pagato 10€, che non è malaccio. Magari si poteva fare qualcosa di più, ma dobbiamo capire che poi GameStop dovrà rivenderli e li rivenderà, evidentemente, a un prezzo più basso rispetto al nuovo. Se il nuovo regular costa circa 16€, probabilmente i Pop usati verranno venduti a 10€, 9,90€, presumo una cifra del genere. Quindi, secondo me, pagarli 4, magari 5, sarebbe stato meglio, però ci può anche stare, così come ci può anche stare 10€ per gli Oversize. Quindi, su questa iniziativa non ho molto altro da dire. Secondo me è comunque qualcosa di positivo, un'opzione in più, e alla fine si possono riutilizzare questi soldi per acquistare le esclusive GameStop che arrivano periodicamente, avendo la fortuna di trovarli integri, perché questo è un altro problema che affligge tantissimo GameStop. Tutti mettono le mani sui Funko Pop, vanno lì a rovistare negli scaffali, e poi sappiamo in che condizioni li troviamo. E poi c'è anche un'altra questione che adesso andremo ad affrontare. Perché GameStop ultimamente sembrerebbe, da quello che è apparso sui social, che abbia cambiato politica riguardante i Chase. In questo caso, secondo me è un errore. Intanto, per chi non lo sapesse, il Funko Pop Chase è una variante di un Pop Regular, una variante che viene annunciata e che viene introdotta sul mercato in modo random, cioè ogni confezione da sei Funko Pop di quel tipo contiene un Funko Pop Chase. Ad esempio, nel caso di Animali Fantastici i Crimini di Grindelwald, avevamo Newt che teneva tra le mani la bacchetta, e nella sua versione Chase, che è questa qui, tiene invece in mano il suo libro, Animali Fantastici e dove trovarli. Quindi, un Pop ogni sei di Newt Scamander aveva questo bollino giallo con la variante del libro. Io lo trovai all'epoca proprio da GameStop, ma per quello che leggo nei social, al nord Italia soprattutto, i GameStop soffrono di una piaga, quella dei commessi che mettono da parte i Chase per proprio conto, magari per poi rivenderli. Io non so quanto ci sia di vero, non voglio accusare i commessi di GameStop a me, ad esempio a Catania non è mai successo. Ho trovato spesso e volentieri dei Chase, anche in buone condizioni, li ho anche acquistati per mandarli ad altre persone senza lucrarci sopra, quindi io devo dire che da questo punto di vista non ho cattive esperienze, però se ne leggono tante su internet. Magari c'è qualche commesso furbetto, ma quello credo che può capitare un po' ovunque. Ma detto questo, qual è la nuova politica di GameStop? Prima venivano venduti i Chase al prezzo del regular, così come imporrebbe in teoria la politica di Funko, che infatti vende al rivenditore i 6 Funko Pop, tutti allo stesso prezzo. Il Chase viene acquistato dal rivenditore allo stesso prezzo della versione regular, e infatti poi dovrebbe essere venduto allo stesso prezzo degli altri, solo che un cliente fortunato su 6 si porta a casa il Chase. Ad esempio su EMP i Chase vengono mandati, come giusto che sia, in modo casuale, e molti, moltissimi di voi li hanno anche ricevuti. E lo stesso ad esempio vale per Mini Big World Collectibles, che è un negozio random Chase, cioè non lucra sui Chase e decide di mandarli random. Ecco, così fa anche Amazon e molte altre grandi catene, però io capisco anche che, ad esempio, le piccole fumetterie, dovendo pur sopravvivere, mettano un rincaro sulla versione Chase. E quello ci sta, io sono assolutamente d'accordo. Vuoi Chase in buone condizioni? Vai dalla tua fumetteria di fiducia, possibilmente ve lo mette anche da parte molto volentieri, però pagando un extra. Ecco, un extra ci sta tutto. Possono anche essere 10 euro in più rispetto al prezzo di base. Vengono venduti 16 euro, se ne chiedono 26 per il Chase. Ci può anche stare, lo posso capire. Ma GameStop, che è una grandissima azienda, che sta affrontando diversi problemi ultimamente, adesso sembrerebbe aver deciso di vendere i Funko Chase a 34,90 euro. Cioè più del doppio del prezzo del regular. Si sono già viste delle foto in giro, delle foto fatte all'interno di vari GameStop spassi per l'Italia, ci sono già stati degli errori, ad esempio versioni regular vendute a 35 euro e versioni Chase invece bollinate a 16 euro, perché magari il commesso non capisce bene qual è la dinamica di questi Funko Chase e quindi può invertire il Chase con il non Chase e viceversa. Quindi può capitare, ci sta. Ma la cosa che secondo me è abbastanza stupida è quella intanto di dare un valore a prescindere di 35 euro ad un Funko Pop Chase, perché sinceramente nessuno sa se un Chase può arrivare a quella cifra, se vale davvero, se varrà quella cifra. Ad esempio il Funko Chase di Grindelwald, questo qui, dei crini di Grindelwald, secondo me non ci vale 35 euro, ma così come molti altri Funko Pop, io quello di Lady Diana l'ho dato via per molto molto meno, ma ci sono tantissimi esempi. Il Pop Chase di Crash, ad esempio, che io avevo trovato sempre da GameStop, l'ho rivenduto praticamente a 20 euro, quindi non ha senso dare un prezzo, un valore di 35 euro ad un Chase. Ultimamente nella Disney Treasure di EMP, quella del Re Leone, quasi nessuno voleva il Chase. È diventato paradossalmente più importante, con un valore più alto, il Funko regolare, che quello Chase, che non era piaciuto praticamente quasi a nessuno. Davvero in pochi lo volevano, addirittura molti lo hanno scambiato con la versione regular. In poche parole, non si può sapere già di base quanto varrà un Chase. Quindi, sì, va bene, io posso anche spendere 35 euro per un Chase, ma so che probabilmente quel Chase potrebbe valerne meno, potrebbe non valere mai 35 euro, come potrebbe un giorno valerne molti di più, ma è un investimento che chi si sentirebbe di fare su un Chase tanto per averlo? Magari adesso smetterà il fenomeno dei commessi che mettono i Chase da parte, magari adesso la gente smetterà di comprare i Chase solo per rivenderli, però sinceramente io volevo questo Chase, ce l'ho ancora qui, ma 35 euro non credo che lo avrei mai comprato da GameStop, magari avrei tentato la fortuna su EMP, su MiniBigWorld o qualsiasi altro sito, magari l'avrei acquistato da un privato, ma non l'avrei preso da GameStop. Quindi, secondo me, questo potrebbe addirittura far abbassare le vendite da GameStop, perché la gente non andrà più a rovistare linee di scaffali, perché tanto vengono vendute a 35 euro, perché perdere tempo, e magari quella gente, non trovando i Chase, avrebbe acquistato qualcos'altro in ogni caso, o magari ancora quelle stesse persone avrebbero potuto trovare un Chase in condizioni non bellissime, magari non mint, magari con la scatola un po' ammaccata, ma per 15 euro, 16 euro, lo avrebbero preso comunque. Io, a questo punto, se decido di acquistare un Chase a 35 euro, dire che deve essere assolutamente mint, è direi alquanto superfluo. Deve essere assolutamente mint. Ed è una cosa che sappiamo essere molto molto difficile da GameStop, visto che, come dicevo prima, tutti ci mettono le mani, e poi, naturalmente, le scatole vengono rovinate, in manche non si dica. Addirittura, loro ricevono già i pop completamente rovinati, perché, ammucchiati dentro scatoloni, assieme magari a delle PlayStation, che vengono messe sopra i pop, che vengono inevitabilmente schiacciati. Quindi, se mi devi vendere un Chase a 35 euro, devi vendermelo mint, e mettermeli magari in una teca, a parte dove nessuno può metterci le zampe sopra. A quel punto, magari, qualcuno potrebbe acquistarli. Bene, questa è la situazione Funko da GameStop, quindi, naturalmente, ricondizionati a circa 10 euro, pop usati da rivendere a GameStop dai 4 ai 10 euro, e Chase, a quanto pare, a 35 euro. Quindi, ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate, sotto nei commenti. Io credo che, a questo punto, se non per qualche esclusiva eccezionale, o per qualche promo 3x2, o roba del genere, difficilmente, continuerò a acquistare, i miei Funko Pop da GameStop. Già, ci andavo poco, adesso credo che ci andrò anche meno. Bene, ragazzi, detto questo, io vi chiedo, naturalmente, di commentare sotto, con tutte le vostre domande, le vostre perplessità. Magari, fatemi sapere cosa ne pensate voi, di questa questione dei 35 euro, io sono qui per rispondere, e mi piacerebbe, naturalmente, che si scatenassero sotto delle discussioni. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, se non foste ancora iscritti, e, naturalmente, noi ci vediamo prestissimo, con tante altre novità, perché ancora abbiamo tantissime cose da dirci, prima della pausa estiva. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.